state ascoltando il meglio di AQPP su M2O giochi a Razzle però lei non è molto esperta di questa tecnologia insomma e ha detto chiamate e dite che c'è una bolletta da 5.000 euro da pagare benissimo chissà come regisce chiamiamo Chiara vediamo se risponde al telefono innanzitutto che è il primo step da superare poi se resisterà un minuto al telefono con noi noi regaleremo sia Chiara che a Daniele la magliettina di M2O squilla? Cosa fa Fiorella? Fa dei gesti strani? No! Il cd dopo per il gioco ci porta fuori strada la Fiorella ci porta fuori strada Pronto? Buongiorno signora Chiara? Sì buongiorno buongiorno sono Alessio di Fastweb sì senta noi volevamo segnalarle che c'è un'irregolarità nel suo contratto sì sì allora vediamo qui dai tabulati che ecco aspetti che do un attimo un'occhiata io la chiamo per sapere se ovviamente è tutto in regola perché altrimenti faccia lei però lei è arrivata a 5.000 euro di bolletta questo mese cioè le risulta? No oh mio dio eh sì infatti noi ci siamo ci siamo un attimo preoccupate abbiamo detto sentiamo se se c'è come mai allora un attimo che che provo provo a vedere allora risulta che lei si collega ad un sito a pagamento tramite il wifi no per giocare a razzo c'è scritto sta scherzando come scusi? no veramente non lo so lei per esempio lei per caso si ma mi era scritto che era gratuito e no non è gratuito adesso io non so nel dettaglio poi se lei magari vuole io le passo il l'ufficio tecnico con il quale può cercare un attimo di chiarire però io qui da un attimo applicazione gratuita che io ho scaricato noi abbiamo scritto Razzle che è quello a cui giocano tutti su Facebook io non so di cosa parla però va bene comunque è un gioco che c'era un'applicazione gratuita che io ho scaricato probabilmente l'applicazione è gratuita però spesso capita che se lei questa applicazione la utilizza con il wifi utilizzando il servizio di fast web non non è più gratuito quante partite ha giocato lei scusi? ascolti allora io mi connetto da casa con il cellulare da casa la connessione wifi con fast web utilizzando questa applicazione lei lo sa che ha una quota di pagamento per ogni partita effettuata? no ma lei ha letto il contratto dell'applicazione? no facciamo una cosa io le passo l'ufficio tecnico vediamo se possono aiutare mi stai dicendo che veramente devo pagare 5.000 euro adesso? eh signora si no io mi sparo no veramente mi dispiace noi cerchiamo di capire se c'è una soluzione rimanga un attimo in attesa per favore pronto buongiorno signora Chiara buongiorno buongiorno fast web aspetto tecnico senta la chiamo per un'informazione lei ha parlato con il mio collega? si ecco allora l'ha informato che c'è un'anomalia sulla prossima fattura che risulta ad oggi di 5.000 euro si ecco allora l'aspetto che stiamo contrattando noi adesso con lei è questo ovvero lei ha letto il contratto nell'applicazione che lei ha scaricato? allora c'era scritto gratuito si allora con la connessione fast web wifi praticamente lei c'era scritto poi leggere e accettare le condizioni mamma mia mi spiace signora perché in questo momento lei ha avuto un tot di partite diciamo se si rifà queste partite di razzol diciamo per un tot di soldi adesso invece si arriva a pagare ogni partita un fior di soldi insomma capisce? ma perché è cambiato la no mi perdoni allora io mi connetto col cellulare si da casa mia si quindi ho la connessione gratuita il gioco gratuito attenzione signora nel contratto di razzol perché noi abbiamo tutte le specifiche abbiamo chiesto prima di chiamarla naturalmente non c'è scritto che le partite gratuite se si collega da wifi ha capito? oggi il problema è questo lei deve pagare allora 5.000 le faccio chiarire una cosa così almeno poi lei ha gratuito 7.3G capisce? in questo momento lei che non utilizza la nostra piattaforma ma passa direttamente perché io ho avuto dei problemi con internet con voi allora questo lo fanno tutti non mi attacchi adesso perché noi stiamo dicendo quali sono le condizioni perché io no allora io mi connettevo da casa io le dico questa cosa lei mi connettevo da casa non lo sapevo questa cosa comunque io ho avuto dei problemi con voi il mio compagno via telefono qualche volta perché non riuscivo a connessermi quando ero fuori e questo è un problema suo la connessione funziona quando è in casa signora no no perché io in teoria con il mio cellulare potevo connettermi quando ero fuori no perché se lei leggesse il contratto come fanno tutte le persone che hanno un cervello diciamo capisce e capirebbe insomma che queste condizioni non valgono fuori casa lei adesso le sto dicendo cordialmente che deve pagare 5.000 euro entro questa settimana in modo che si chiude la fatturazione di marzo poi vedremo cosa combinerà per aprile però io più di questo non posso dirle più che avvisarla lo capisce e tra l'altro mi scusi non è corretto dire colpa nostra la connessione abbiamo chiamato perché sono tutte balle lo sappiamo se c'è un altro problema comunque con voi di connessione non esiste il problema di connessione siamo i numeri uno me lo permetta perché ci lavoro da 20 anni in questa azienda no con il mio cellulare il mio compagno ha fatto non so quante signora io non posso avere il problema dei terminali di tutte le persone in Italia che hanno problemi di connessione lo capisce o no lei che scusi io sto parlando del problema della sua fatturazione e lei mi dice che probabilmente ha tempo da perdere non so non fa nulla nella vita quindi gioca a razzol ecco questo è un problema attraverso un lavoro volentieri dato che lavoro non ce n'è signora non mi insulti sotto questo aspetto io non insulto come lei però non deve criticare la mia azienda ha capito io sto dicendo che ho un problema di connessione signora sa quanta gente mi dice che non lavora e lava i piatti e fa le pulizie in casa lei gioca a razzol è un problema suo lo capisce no sì ma lavare i piatti non è che la mia casa ma cosa sto dicendo mi sta insultando sotto questo tetto no sto insultando sto dicendo che non sto facendo niente signora questo l'ha detto lei insomma se uno gioca a razzol tutto il giorno e paga 5.000 euro di bolletta non è un problema mio anzi io quando esco a fumare una sigaretta ne faccio una o due partite fumo due sigarette al giorno è un problema suo mica è mio scusi io non fumo ok ma per dirle che mi dice che sto tutto il giorno a giocare a razzol signora 5.000 euro di bolletta per razzol non sono due partite al giorno lo capisci o no? insomma lei paga allora la signora ecco Chiara Campione che tra l'altro ha anche un cognome voglio dire che se gioca a razzol deve pagare altrimenti ne facciamo anche la multa che sono 1.200 euro che verranno accreditate subito ascolti ma allora mi scala direttamente dal conto corrente giusto? assolutamente sì quindi ad oggi lei verso metà aprile 6.200 euro signora 6.200 6.200 ma i prossimi mesi non me lo fa dire per favore non lo so signora quanto lei gioca a razzol cioè non è un problema mio senta rimanga in attesa un attimo così le dico quanto paga il prossimo mese no io cioè io no veramente senta signora Chiara ci sarebbe una soluzione eh quale sarebbe sarebbe dire a QPP buongiorno Chiara campione di razzo campione di razzo buongiorno Chiara sei in diretta su M2 o a qualcuno piace presto sei stata messa alla prova questa mattina Chiara io lo picchio è stato Daniele non tornare a casa stasera perché ti picchio buongiorno anche Daniele ciao ragazzi buongiorno non tornare a casa stasera perché ti picchio ecco ti picchio bravissimi ce l'ho fatto magari fate fate una partita a razzol che ne so ma io lo devi insegnare però me lo devi insegnare Chiara Chiara è commossa sta piangendo te lo dico sta piangendo ma sono cazzi tuoi stasera amica nostra Chiara pensa che bella cosa pensavi di aver perso 6.000 euro invece adesso non li hai più persi quindi è come se li avessi guadagnato quindi buona giornata come Excelsior allora volevo farmi uno scherzo con voi su tradimenti o altro ti dico meglio uno scherzo così rispetto ai tradimenti però non tornare a casa stasera il lato il lato il lato positivo è che per voi c'è la magliettina di M2O grazie ragazzi va bene ciao ragazzi buona giornata allenati Chiara che ci sono i campionati italiani di Razzo M2O